Direttore, allora, lei lo aveva detto proprio nella nostra trasmissione a replay qualche giorno fa, non vorrei che il Pescara ci giocasse un brutto scherzo, il Pescara questa sera ha giocato un brutto scherzo alla Pistoiese, che partita ha visto e le chiedo se è risultato giusto? La partita, il Pescara, partiamo da questo presupposto che è un'ottima squadra e che questa sera ha ottima individualità, io avevo detto Dursi e Dursi ha fatto due gol. Non sono d'accordo con Ferrari, non mi sembra un grande calciatore e infatti la sua carriera lo dice, quindi non è che ha fatto la guerra con Portanova, l'ha persa secondo me, anche se ha fatto un gol. La partita è stata falsata dall'arbitro, questo è fuori di dubbio, un arbitro scarso che ha sbagliato sin dall'inizio, però ha sbagliato sempre contro di noi e mai contro di voi, questo mi fa dispiacere. Però, indubbiamente, poi come si è messa abbiamo preso un terzo gol da distratti, diciamo così, la partita è finita. Possiamo dire che, insomma, il Pescara è stato anche cinico perché è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto, voi delle occasioni invece non siete riusciti a sfruttarle, vi siete lasciati prendere un po' dalla frenesia del gol? Beh, che l'orgasmo ci fosse, noi siamo una squadra molto più giovane nel Pescara, per cui, e ripeto, il Pescara c'è individualità di spicco, quindi poteva portare dalla sua la partita in qualsiasi momento, per cui ci poteva stare. Questa sconfitta per la Pistoiese significa play-out? Sì, a questo punto sì, però a questo punto li faremo la quinta ultima, quindi abbiamo una migliore classifica, e per cui dovremmo, a questo punto, visto i risultati, se dovremmo giocare con Limola, e quindi cerchiamo di battere Limola. Direttore, si aspettava questo Pescara, o Pescara che non ha regalato nulla, dicevano dei colleghi di Pistoia, come è giusto che sia, però forse qualcuno poteva pensare ad un Pescara, insomma, che non giocasse la partita della vita, invece questa sera Pescara ha giocato una gara anche da un punto di vista temperamentale e vigorosa. Ma sì, ma il Pescara doveva fare la sua partita, è giusto, rispetto al calcio, alla sportività, quindi io non mi aspettavo nessun regalo, io scherzavo l'altra sera, ho scherzato nella vostra trasmissione, la trasmissione, sì, però mi aspettavo questo Pescara, sapevo che Dursi era forte, che la difesa è forte, cioè siete forti in tutti i reparti, avete sbagliato il campionato, perché non siete meno sicuramente del Modena, o della Reggiana, o dell'Entella, che sono le tre squadre insieme a voi più forti del campionato, Cesena non ce la conto, quindi ci poteva stare questa partita, e purtroppo è capitata così, se avesse segnato dall'inizio Bocic sulla prima palla, o ci avesse dato forse qualche rigore che in giro ci stava, forse la partita avrebbe avuto un'altra piega. Direttore, per chiudere, il Pescara è quarto in classifica, può sperare ancora nel terzo posto, ora ci saranno questi 90 minuti, insomma qual è il suo pensiero, la sua previsione? Beh, io lo auguro, perché se no un altro anno vi faccio tre gol, quattro gol Pescara. Grazie direttore, buca al lupo.